In una Roma in pieno confinamento e secondo alcuni in non completa legalità, un'organizzazione aiuta i migranti a prendere un treno e andare al nord per cercare di raggiungere altri paesi d'Europa. Una scelta che forse non piacerà ai vicini europei, Francia e Svizzera su tutti, ma un attivista spiega il perché di quella che lui considera una scelta umanitaria. Ogni giorno abbiamo dai 5 ai 20 migranti, ogni giorno questi chiedono aiuto, per raggiungere altri paesi. Credo che le autorità in fondo siano felici che la gente da qui se ne vada. Il rischio è ovviamente che questi migranti in condizioni illegali vengano respinti alle varie frontiere, ma nel caos dell'Italia in piena pandemia per ora nessuno sembra in grado di controllare.